Incredibile, incredibile, cioè non si può accettare una cosa del genere E' veramente vergognoso quello che è successo in queste ultime due ore Perché è arrivato il comunicato ufficiale Che praticamente è successo che l'ADS del Napoli ha bloccato il viaggio verso Torino dei giocatori del Napoli Complimenti, 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 complimenti Poi però non vi lamentate quando vi offendono Perché io stavolta sto dalla parte dei coppi della Juve Perché comunque c'hanno ragione Anch'io se fossi tifoso della Juve sarei incazzato onestamente Perché comunque sia il Napoli deve giocare la partita e deve andare a Torino Perché in Serie A, prima che purtroppo, mi dispiace, succedeva l'accaduto C'era un relativo regolamento Quindi non è giusto che De Laurentiis creda di comandare tutto e tutte Cioè nel senso, praticamente lui Ma non è la prima volta che succedono queste cose Non è la prima volta che succedono queste cose E sto parlando del Napoli Sto parlando del Napoli Anche perché secondo me il Napoli Ha delle buone chance per fare un buon risultato contro una Juve Che non sta neanche benissimo mentalmente Quindi non vedo il motivo per cui non vogliate partire per Torino Però avete veramente rotto il cazzo Avete veramente rotto i coglioni Io se fossi un tifoso della Juve in questo momento sarei incazzato Perché sto dalla parte loro Sto dalla parte loro E' giusto che il calcio vada avanti E' giusto che si gioca Perché la gente si alza alle 6 di mattina per andare a lavorare Essendo che non fa il calciatore Tutto va avanti E tutto deve andare avanti Con le rispettive regole Il regolamento è uscito La Serie A è uscita Ha fatto il rispettivo regolamento Sulle posizioni del Covid-19 E quindi vanno rispettate E quindi il Napoli deve partire per Torino Non ci stanno scusanti Non ci sono scuse Non ci sono scuse Non ci sono scuse Stavolta mi dispiace dirlo Però c'hanno ragione loro C'hanno ragione loro Ed è giusto che i tifosi della Juve si incazzano Il Genoa? Vogliamo parlare del Milan? Vogliamo parlare del Milan? Che gioca senza praticamente Tra infortuni e positiva il coronavirus Praticamente Non gioca nessuno Non gioca nessuno Senza Ibrahimovic Ma di che cazzo stiamo parlando? E tu ti vai a lamentare Dopo che hai positivo Elmas E Fabian Ruiz Ma di che cazzo stiamo parlando ragazzi? Ma di che cosa stiamo parlando? Comunque bisogna intervenire Bisogna farsi sentire Perché Non è giusto Non è giusto Bisogna assolutissimamente Fare qualcosa E su questo non c'è dubbio Fatemi sapere Ovviamente anche voi qua sotto Nei commenti cosa ne pensate Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Lasciate like Commentate Condividete Un bacio a tutti E prima di lasciarvi Vi lascio il link in descrizione Del mio canale Telegram Delle scommesse Vi lascio qui sotto in descrizione Il mio account Instagram E mi raccomando Andatemi a seguire anche là Un bacio a tutti Almeno la sua Inter se gioca Però non è più pallone È una merda così Grazie a tutti